Dai cos'è sta roba? Vuoi? Tieni il cibo Un lampo... che passo ho scritto? Ciao a tutti i gamers, noi siamo Sara e Gianmarco I games lovers Benvenuti su un nuovo video di Lego Fortnite E ragazzi oggi siamo qui Abbiamo preso un bel po' di nodo torto E siamo pronti a potenziare anche il villaggio Perché avevamo visto l'ultima volta che era Diciamo una cosa molto fattibile Infatti vedi abbiamo tutto Perfetto E niente direi di potenziarlo a livello 4 3, 2, 1 Via Eccoci a livello 4 Letto del principe Ok abbiamo sbloccato Uh bella Cassetta gigante Baita di tronchi E la torre di guardia Finalmente Bellissimo Uno scaffale Vediamo ragazzi cosa ci ha sbloccato Ok tutte le cose Ok Per fare da nulla Faccio picconi nuovi Costruzioni Ma intanto tu fai picconi Qua ci sono le scale e ringhiere Ah Delle ringhiere Ok I pilastri E i tetti Nuovi Diciamo delle nuove costruzioni Anche dell'anedamento Piccoli fatti Per andare a raccogliere Forse il marmo Se vi ricordate Avevamo trovato Il nono torto Nelle caverne Che si poteva prendere solo con la cetta più potente E abbiamo trovato anche il marmo Che con il piccone Quello vecchio Non si poteva prendere Quindi probabilmente Con il piccone nuovo Si potrà prendere Esatto Ragazzi avevamo fatto anche questa Se vi ricordate L'avevamo andata a Sunflower E' vero Si infatti A letto da Sunflower Già che ci sono scusami Guarda un po' Posso fare una cassettiera Alla Ce lo metto qua Ah preciso sotto la Sotto la finestra Sotto la finestra Bello ragazzi Bellissimo Ah ma ci posso mettere dietro la roba Ci metto la cacca Vai Smerda E niente Delle bacche Delle uova Ok Allora c'hai il piccolo più forte Perché ho il badile Lo metto anche qua Sì c'ho il piccolo più forte Ora sto sistemando un attimo due cose Sì andiamo subito Anche in caverna A prendere il marmo Sì andiamo prendendo il marmo Ah sono curiosa di vedere Come si migliora il villaggio di nuovo Il marmo Quindi cinema marmo E ventissi Da poco Buono Doviene farne qualcuna Già allora Sì Ne metto qualcuno a fare Le metto tutte e venti Guarda Tutto Qua quattro ce l'hai Ok vabbè Anch'io qualcuno Forse ce l'ho dentro l'inventario No Ok Il loro torto cosa faccio Lo deposito Io sto depositando qualcosina Perché sono Sì esatto Anche quello E anche quello Siamo troppo pieni Ragazzi Bisognerebbe Modificare L'erba che si compenetra Con le strutture Sì L'erba che si compenetra Il gioco È bellissimo Come potete vedere Abbiamo migliorato notevolmente La grafica Perché abbiamo Migliorato il computer Come due giochi Ho già fatto qui Esatto Stiamo dicendo Però ragazzi Sì questa cosa Cioè gli sviluppatori Dovrebbero modificare L'erba Sì quando ti piatti Il blocco Togli l'erba Ora con te lamponi Brava Andiamo Lampone Andiamo Aspetta Allora Dammi un po' l'accetta Noi andiamo dove Che non abbiamo spade Dammi un po' l'accetta Il piccone Che accetta È vero non ho le spade Che Di piccone Dammelo Grazie Ti lascio Fatto Grazie Ok Posso fare una spada Posso fare una spada Perché se no Non ce la possiamo fare Sì Per fare la spada Più forte Serve la verga Di dato torto Ah posso farla Quante ne hai Non ce l'ho ancora Aspetta Devi farne dieci Io ne ho quattro però Ah ok Allora qua Tolgo tutto Io ne ho quattro Fammi sei Ok Fai sei verghe Sei Aspetta Così facciamo due spade nuove Allora ragazzi Nel frattempo Prendiamoci qualche risorsina In giro Sì esatto Se inizio a mangiare E poi cammino Mi si annulla L'azione Eh anch'io È vero È una cosa che mi metto A fare anch'io Con il cibo più grosso Si ci vuole un pochino di più A mangiare Ci vuole un po' di più E quindi Ci capita spesso Ma invece con I soldi più veloci no È vero È vero È vero Subito Vorrei usare già Ecco Ok Ho preso le me che faccia Le spade Ok Io arrivo Mi sono preso un po' di Spada lunga Di marvo Vai così Spada al potente Anche Buono Ok Abbiamo anche lascia Quindi Ora per aggiornare Questo cosa serve Poi Il marmo Artiglio delle sabbie Bello Il guscio delle sabbie Aspetta che Ve lo faccio vedere Vuole andare nel deserto Ah la verga di nodo torto Ce l'abbiamo La lastra di marmo No dobbiamo prendere Il marmo Prendere il marmo Le sabbie Il guscio delle sabbie Vorrà dire Trovare il deserto Esatto Andare nel biolo del deserto A te vorresti la spada Sì Grazie Grazie Ok Direi che siamo Ben equipaggiati Sì dai Ma se io volessi Crearmi Delle frecce Come faccio Come faccio Ultimo in fondo Freccia Legno e piuma Piuma ne abbiamo Un bel po' Qua Mi pare Qua Le piume No di là Ragazzi Mi faccio qualche freccia Così uso la balestra Che abbiamo trovato Ultima volta Te le fa per otto Eh scusa C'è con una piume E un legno Fai otto frecce Sì Porca miseria 8 16 24 Me ne faccio 24 Sì Fai 24 Tutto ragazzi Non le uso per tutto Per tutti i nemici Guarda infatti Hai la balestra con 24 usi Ho visto È vero la balestra blu Ho trovato Io c'ho questa Dai due Barbona Eh sì La vuoi? No non me la faccio Di niente Non la vuoi usare? No Sono vicino Tu vai vicino Ok io sto dietro Ok Ma posso lasciare qualcosa? Tipo questo? Oh grazie C'ho latte Che mi faccio del latte? Fin che piove Vado un attimo a finire i miei piccoli Che c'ho Anch'io rossi Ok Sì E io Magari prendo Niente del legno Sì Prendi del legno E Oddio Perché sono saltata via Ragazzi ora comunque Sì Andiamo in miniera Prendiamo altro lodo torto E prendiamo il marmo Penso Con il piccolo nuovo Dovremmo Fatto con lodo torto Facciamo 2 più 2 Teoricamente Era quel sasso bianco Sì Sì Penso che sia così Sì Ma probabilmente Sì Dunque andiamo Perché abbiamo solo una spada Anche Sì Ne prendiamo un po' E poi ce ne togliamo Esatto C'è un arcobaleno Sì C'è un arcobaleno Lo vedo da te Eh vedi Andiamo a vedere Andiamo a vedere cos'è Scusa Andiamo andiamo Sembra qualcosa di particolare Guarda qua Oh freddo Anch'io Eh perché è notte Questo è un peccato Questo è un problema Se non ci arrivi là A questo non lo vedo più È probabilmente Quindi voglio che l'ho andato via Oh E' andato via ragazzi E' andato via ora proprio E' andato via E' andato via E' andato via E' andato via Riapparirà Esatto Riapparirà C'è la caverna davanti a noi Possiamo entrarci dentro Sì esatto Allora Ok Ah sì Proprio davanti a noi Allora andiamo diretti Nella caverna Sì Possiamo andare nel caverna diretti Andiamo C'è qualcuno Ma chi è? Ah è una mucca È una mucca che sopra In seguita da uno scheletro Perfetto Oh ti seguo lo scheletro a te No Ok cavolo Ok No niente C'è stato un momento di lag Andiamo Prima che prendiamo troppo freddo Eccoci ragazzi Allora vi dispiace che non si vede niente Ma Io ho la caccia Oh brava Ah Ok Allora Cerchiamo il nostro Caro barbo Lì in alto Eccolo qua Eccolo qui Questo ragazzi Aspetta Occhio occhio c'è il mondo Cazzola L'occhio agli scorpioni che Eccolo schifo Ti scioltano il scorpionico Come si scriva C'è un po' di internet ragazzi Sì L'ho visto anche io Ma poi lo prendiamo C'è un scorpione e c'è un altro guscio E' un po' Esatto Sì Si può prendere Funziona Io vado giù Sì Anche io potrò Adesso A me Sì ragazzi Si può prendere il marmo Con il piccolo verde Eh ci vuole un bel po' a prenderlo Cioè prima che si rompe Eh beh sì Sarà sicuramente più complicato E prendiamo ancora un bel po' Eh prendiamolo un bel po' La chiesa qua Carino carino questo sistema Vai vai Ragazzi nel prossimo video Magari ecco Vorrei costruire Una Oh anche ora Vorrei costruire una nuova casetta Magari quella nuova di Tronchi Ci sta Oh no la torre La torre radio La torre di guardia La torre di guardia Vorrei fare quella allora Facciamo quella lì Prima di interrompere il video E la prossima volta Io andrei nel deserto Cerchiamo il deserto Eh Cerchiamo il biome del deserto ragazzi Perché ci serve la roba delle sabbie Sì Hai trovato una cassa Sì Io sto prendendo un bel po' di marmo Prendilo prendilo Sì andiamo a cercare il deserto Del prossimo Ah sei qua Carino ragazzi Molto carino Fateci sapere nei commenti Se volete vedere magari delle costruzioni Custom fatte Cioè Particolari Esatto Fatte da noi Con I singoli blocchi Le pareti Le fondamenta E quel cos'è Ma giusto Ma non ce l'ho io la torcia E se no rimane al buio Oh C'è un coso Un guscio Qua c'è Un guscio Un guscio Un guscio Un guscio Un guscio Ok Scusa la spada Come sei rotta Ma lo sto usando quella forte No no Ah ok No Oh quella fa la vecchia Eh io l'ho E' carla piccone però eh Sì Cavolo io l'ho già quasi usato tutto Eh sì Io sono metà E ci vuole tanto a prenderlo Cioè Tanti colpi ci vuole Sì tanti colpi Comunque una volta finito il piccone Direi che possiamo anche andare Sì ci sta Ok Qua c'è l'altro guscio Che era caduto prima Ok ragazzi Eccoci di ritorno al villaggio Direi che siamo stati in caverna abbastanza Sì abbastanza Un pochino off camera E abbiamo raccolto un po' di materiali Abbiamo raccolto Due stacche di marmo Un po' di nodo torto Un po' di roba Ora abbiamo messo a fare qualche asse E abbiamo fatto La bellissima cassa La cassa verde Grande Fatta appunto con il blocco di marmo Che facevi Buttando il marmo dentro Lo spaccapietre Esatto Qua dietro di noi Che abbiamo fatto anche Anche quello lì esatto Lo spaccapietre Spaccapietre Ok Era qui dietro Ragazzi ok Abbiamo messo anche qualche altra Spaccapietre Spaccapietre Per fare la lastra di marmo Butti dentro Esatto Il marmo E fare la lastra di marmo Perfetto Prese Adesso Adesso Cosa possiamo costruire Ho sbloccato cosa La torre di guardia Eccola qui Bella Questo me lo tengo Perché probabilmente mi serve Aspettate che stava partendo tutto No mi sono messo a ballare Perfetto Allora torre di guardia Eccola qua Ok È una marea di legna e di assi Stai avendo altra roba Uh Mi sa Perché sta ballando Anche io mi sono messo a ballare Perché mi ero messo a ballare io per sbaglio No non ci credo A parte che sto morendo A parte che sto Fingalo Torca Ho bevuto senza avere il latte in mano Assurdo Allora Cominciamo Uh Allora Perfetto Pilastronzo numero 1 Pilastronzo numero 2 Iniziamo a costruire la Pilastronzo numero 3 Torre di osservazione Vorremmo salire Oh Fabio ho mangiato adesso Devi sempre fame Di piscina Mangiare anche io Ma come ho fatto Non ho fame Non ho mangiato Ma come ho mangiato adesso In questo momento Cambia parte Posso entrare in posizione Oh Allora ho preso la T Mettiamola qui Ah ok Dicevo Perché lì manca un pezzo E Ci vado a prendere la staccionata Prendila Ok Ora Costruiamo la Da su E rafforza Dicevo Antesca sta cosa Si è enorme Ma scusami Aspetta che metto le scale Ok Metto le scale Metto i pilastrini Allora prendo le altre Si Si Qui da 4 Ma E l'ultimo Fase Fase 13 13 Ci sono 13 fasi E' bello Bello lungo da costruire E' gigante Vai Metti le due staccionate te E ti metto il pirulino Perfetto Andiamo Metto i pilastroni qua Prima Parmento Si si Aiuto Ok No E' complicato E' costruire così Però E' bellissimo Come si costruisce Ragazzi Bello Sale ancora Quanto sale Mamma mia E tu hai le due osservazioni Devi osservare Beh si Devi osservare Eh Metto la ringhierina Ah la volevi mettere te Eh ma siamo Siamo bello in alto Sono saliti parecchio Tanto volevo vedere se vedevo il deserto ma non vedo niente Il deserto non si vede Ora vediamo un attimo se poi lo vecchiamo Esatto Sarà dura Stai morendo di farlo Ma ho mangiato adesso Se fai le cose ti vien da mangiare Oh cavolo Forse non avevo mangiato Forse non avevo mangiato Ah ti rimossa magari Eh mi sei si sai Ok Il pavimento La paretonza La parestronza No scherzo Parestronza Certo Curo sei te Parestronza Ok Finiamo di Fare il pavimento esterno Ragazzi è bellissimo Anche più la stronza Ovviamente Mentre costruiamo Piove Però pensi che sia Scusa Cosa sta succedendo Non ho legno Hai fitto il legno? Si C'hai tutto te Tutto io? Si E finiremo di costruire Allora Con calma almeno Io non mi dobbiamo di la roba Da fare Guarda 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 No dai si è caduto Due giorni dopo forse riusciamo a costruire la Forse La torre di L'osservazione Forse Ragazzi c'è l'attacco degli scheletri al villaggio L'attacco del freddo sto congelando Si è vero Sto morendo Stiamo a costruire col freddo Si infatti Un caso di sotto tre volte Si occhio Ok vai Metti pezzi Oh Manca questa roba qua Un pezzi uguale ma non li mette No infatti Figurati E quello grosso Ora manterranno i due finali Questo No potevo aspettare un'altra Per l'altro Si Si Oh chi è Da sotto Arrivo In salto Ma hanno sparato loro Si Guarda quando spara Non lo so Non lo so Devo mettere No E queste Ce la fai a mettere quello Spero Fatto Energia Insufficiente Non vedo Che bella ragazzi Bellissimo 12 di 13 Questa manca Ah le stagionate Ah le stagionate Guarda un po' Queste posso metterle anch'io Con le assi vero Forse Si Eh perché io non ho più assi Ho un asse sola Ok le assi le posso dare io Ok l'unica cosa che Ho un asse sola Le metto l'ultima stagionata Basta Vada Che cosa metti No devi mettere i pirulini Con il legno Allora quello che posso fare Ecco metti quelli Ok Questo è un legno Non ne ho Sono 11 di legno Ok Ok perfetto Ah mi sa che è finita Mi sa di si Perché prima Non è 12 di 13 Questa è l'ultima fase Ah fame Strano Strano Via Eeeh Completata Perfetto Non mangiare Sto morendo Al freddo Completata Io però scendo al caldo Questo niente Ragazzi Arrederemo tutto Vetteremo due luci Perché non si vede Le luci Metterei sì le luci Serve il Il coso Il pronzo Come si chiama Cosa La padaglia Non per fare le luci No serve un oggetto particolare Il cor lucente Il cor lucente Mi dicevano prima Mi sa che andare nel deserto Perché anche ora Per potenziare il tavolo Mi pare Sì ci serve Il guscio delle sabbie L'artiglio E il guscio delle sabbie Però Entrambi Quindi una sorta di lupo E una sorta di roccia Che rotola Delle sabbie Esatto Quindi deserto Quindi prossimo step Andare nel deserto Che non sappiamo Dove potrebbe essere Stando avvenendo così la mappa Andiamo a vedere Vedendo la mappa Come vedete vedere Noi abbiamo a sinistra Sotto e a destra Tutto neve Si vede che va abbastanza sul chiaro Quindi probabilmente è neve Cioè lo vediamo Quando sarà giorno Eh ora non si vede Ma siamo circondati dalla neve Siamo circondati dalla neve Quindi l'unico punto Forse dove potrebbe essere Il deserto Di là È esattamente a nord Preciso nord a noi Dove appunto non è chiaro La mappa Esatto Quindi Ok stavo vedendo anche giorno Quindi possiamo vedere La torre Infatti vedi La torre d'osservazione Neve 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 Ancora neve Neve Tieni a vedere ancora un attimino Neve 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 La neve ce l'abbiamo Solo là L'unico punto dove possiamo andare Appunto Forse Potremmo trovare Esattamente In questa direzione Sto morrendo di fame Potrebbe esserci il deserto Andiamo a esplorare un po' E vedere Esatto Sarà bello che mangio qualcosa Ma se non è possibile Ma io non so C'è un personaggio Si C'è un personaggio con dei problemi Di fame Si è un personaggio con dei problemi solitari Si si ti giuro Ma Ma serio C'è un personaggio con dei problemi solitari Per forza Perché era impossibile Vediamo un po' Tempo che mangi E devi mangiare Quindi oggi abbiamo fatto la cassa Abbiamo potenzato il villaggio Abbiamo fatto la cassa nuova Abbiamo raccolto il marmo Abbiamo fatto l'osservazione Esatto Abbiamo fatto il prossimo video Probabilmente Andremo Nel deserto Probabilmente si O almeno intanto lo cercheremo Probabilmente si Dato lo cercheremo Ma poi andremo nel deserto La carne A cuocere A vedere un po' Allora qua abbiamo Gira sole Cosa sta facendo? Gira sole niente Ormai avranno la roba da raccogliersi Ok Per potenziare invece il villaggio Serve il nodo torto Le assi E il marmo Ma non abbiamo ancora detto Niente di fare Come non è possibile Aiuta il villaggio Manzioni di risorse Lavorare No Da che le risorse ne paraggi Sarà Mi ricordavo Dove gli ho già dato Anch'io Meglio così Ah mi ci vorrà un giorno Di esplorazione Per trovare qualcosa di utile Esatto Perfetto Questo chi è? Bombarola lucente Ciao Bombarola Ho visto solo di questi velo 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 Ho visto solo di fermarsi per un po' Già non so Sì Esatto Bella torre di guardia Molto bella Molto bella Molto bella Perché poi che una notte non si vede Eh sì infatti Bella 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 Sono uno due tre piani Praticamente Assurdo Comunque si vede tutto dalla sopra Sì è bella alta Ma è fatta bene Allora ok Mi manca un pochino di cibo Ah la cara Chi c'è la mia sa qui? Dai è la mia carne Quella Era la mia carne Ora moro di fame Meno male Non ho trovato Ora moro di fame Nove costolette c'ho Ma vabbè dai Zucche 32 bacche Io ho questo Cosa c'hai te Una bacca della neve Sì Che non mi serve oltretutto Sto morendo di fame Dai capito Dai 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 un po' Due costolette Ti do due qualcosa Vieni qua Dai Prima che t'accetto La faccia Dai Vieni Vieni Dai cos'è sta roba Vuoi? Tieni il cibo Un lampo Che appasso ho scritto Ho anche le nuove costolette crude ragazzi Mettila a cuocere Va bene Mettila a cuocere Lasci dal gioco No Non sono a fare Ma detti le berghe qua C'è un dici berghe Le berghe di nodo torto Ma detti le berghe di nodo torto Allora Perfetto L'ho prese Sono buone Allora Vediamo un po' Se riesco a fare Due spade Esatto Faccio due spade C'è un problema Il panino è rincoglionito Si è bagato il panino Si è rincoglionito il panino ragazzi No Aspetta Manzo boss Manzo boss si è rincoglionito Non devo parlare con manzo boss Volevo aprire la porta io Non si può più aprire la porta Ah ok Aperta Entra dentro Parla con manzo boss No vai dentro manzo boss Come va la tua mansione No è uscito Ottieni piante rampicanti Piuma Legno E terreno E granito Il terreno buono L'unica cosa buona è quello Ma va Cioè Fatto di tutto Ma più dieci Più venti Più venti Mi ha preso molto di roba Si ma Cioè dieci 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 Il terreno buono Se vi avrebbe un po' di merda Merda Tipo tre No Canca l'ho messa qua dentro io Dove hai messa la merda Qua Nel comodino Cioè tu hai messo la merda nel comodino Cioè ma che sei uova Tu hai messo la merda nel comodino No Ma veramente Piede un po' di carne Cioè La merda nel comodino Di letto di san claude Si Gli aveva fatto uno scherzetto Vabbè lei è una farm È una È una È una fattoria Come si chiama È una È una contadina Una fattoria Una fattoria Una fattoria È di serve L'etame Ti c'è la terra Si certo Allora Perfetto ragazzi Direi che Per questo video Possiamo concludere qua Abbiamo fatto un po' di cose Forti Farà qualcosa di diverso Cioè una spada Ragazzi Probabilmente possiamo Rimigliorare il villaggio Perché potremmo già farlo adesso Ma E al nostro ritorno da deserto Se riusciamo a trovare questi mob Riusciremo a migliorare anche il tavolo È vero Qui Quindi poi Trovare anche quindi No Non volevo dormire Non volevo dormire E quindi poi Migliorarlo Eccolo qua Per sbloccare Quindi Le cose nuove Sbloccare cose nuove Anche qua Esatto Sicuramente C'è una roba nuova Potente Da fare con materiale Ancora nuovi Che non devono ancora sbloccare Ok Ok ragazzi Allora Dalla nostra Torre d'osservazione Di tutto E ci vediamo Vai giù Non puoi buttarmi giù Non puoi buttarmi giù Sto morendo di fame Io ho mangiato una costoletta Di 15 minuti fa Ma dai Ho 5.000 cuore Ma scusate Ma io ho un problema Il mio personaggio Ha un serio problema Ma è Esattamente Ti assomiglia molto In questo Mi guardi Ti mangieresti i tavolini Non è vero Con l'azione Con l'azione c'è la guerra Ragazzi fate finta di aver sentito niente Con l'azione c'è il camion fuori Che c'è i reali Tutto Va bene Allora Siccome abbiamo scoperto Queste similitudini Tra me e il mio personaggio Ovviamente è un ambro di Natale Ci vediamo al prossimo video In cui andremo in esplorazione Forse del deserto Se lo trovassimo magari Ma vai di sotto Non posso Non posso No Sto guardando il tuo Bravo Guarda il mio Ok ragazzi Allora 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 Ci vediamo al prossimo video Su Lego Fornite Si Mi ricordo anche Di iscrivervi al canale Se non avete fatto Mettere mi piace Attivare la campanella Per essere sempre aggiornati Per quando uscirà Un nostro nuovo video Ok Alla prossima Ciao 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 Ciao